Francesco Panetta è conosciuto invece nel mondo come grande campione dell'atletica leggera, campione mondiale dei 3.000 siepi. Mi ritengo un fortunato perché fondamentalmente riesco a fare anche un lavoro che mi piace. Ho cominciato da poco una nuova esperienza lavorativa e quindi questo mi ha portato appunto a essere a contatto con questa struttura meravigliosa e spero appunto che possa essere un inizio di una partnership importante. Quindi sì, adesso mi occupo di sport ma da un altro punto di vista. Tu sei a Lenaia per incontrare anche tanti podisti, maratoneti, triatleti, perché no? Sì, beh, io devo dire che Pescara adesso la frequento per lavoro ovviamente, ma in passato Pescara io l'ho frequentata perché allo stadio, quindi c'era una pista molto bella, io ho fatto addirittura anche qualche nazionale giovanile in passato. Non voglio nemmeno ricordarmi quanti mille anni fa sono passati e quindi sì, la conosco non benissimo perché poi quando ci venivo per gareggiare era una toccata e fuga e quando arrivo da queste parti a trovare la mia agenzia qui sul territorio poi sono sempre come una pallina da flipper sparata in giro per il vostro territorio, però ripeto, questa è già negli ultimi 15 giorni la seconda volta che mi trovo appunto all'interno di questo centro molto bello e questa sera incontriamo appunto dei triatleti perché presentiamo un prodotto nuovo, un orologio nuovo e quindi ecco l'occasione ulteriore. Il professor Patrizio Ripari ha parlato dell'utilizzo degli aminoacidi essenziali nella dieta e nell'allenamento del runner ma dello sportivo in generale, possiamo dire? L'utilizzo degli aminoacidi, soprattutto gli aminoacidi essenziali, cioè quelli che l'organismo non è in grado di sintetizzare da solo, è fondamentale per alcuni aspetti di cui ho parlato durante la mia relazione e che riguardano poi l'ottimizzazione di quello che è il nostro regime nutrizionale che è importante nella vita di tutti i giorni per ognuno di noi ma è fondamentale soprattutto per l'atleta in cui un errore nutrizionale può costare caro. Patrizio Ripari ha lavorato con questo centro, con il professor Vecchietti per tantissimi anni, abbiamo lavorato insieme tanti anni, tanti lavori sono stati fatti proprio con gli stessi strumenti, il big one come nel settore degli aminoaci ma soprattutto poi nella ricerca sportiva, quindi con gli atleti evoluti, con gli atleti in genere. e devo dire un grande piacere, un grande onore ritrovarlo di nuovo qui all'interno e sentirlo di nuovo parlare degli stessi argomenti.